La festa del soccorso è l'omaggio della città di Sansevero alla Madonna. È il momento principale dell'espressione dell'identità del popolo sanseverese. Chi ha vissuto questo da bambino lo porta dentro e non lo prenderà mai. Ecco, in questo momento noi siamo noi, siamo noi sanseveresi che ci riconosciamo nella Madonna del soccorso. La festa del soccorso è l'omaggio della città. La festa del soccorso è il nostro paese. La festa del soccorso è il nostro paese.